Il presidente della Regione Liguria Giovanni Totti ha gli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Genovese e della Guardia di Finanza. L'accusa è di corruzione. A sostituirlo nelle sue funzioni il vicepresidente della Regione Alessandro Piana. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova su richiesta della Procura della Repubblica. Si parla, spiega il comunicato della Procura, fatta naturalmente salva la presunzione di innocenza per tutti i coinvolti di episodi di corruzione ritenuti essere stati perpetrati in occasione di consultazioni elettorali riguardanti la Liguria nonché nell'ambito delle autorità di sistema portuale e della pubblica amministrazione regionale. Perquisizioni sono state effettuate nell'abitazione di Totti e anche negli uffici del Consiglio regionale di Via Fieschi. Arresti domiciliari anche per Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro di Totti. E' accusato di corruzione elettorale, aggravato dalla circostanza perché per l'accusa avrebbe agevolato l'attività di Cosa Nostra. In particolare avrebbe agevolato il clan Cammarata del mandamento di Riesi, Caltanissetta, con proiezione nella città di Genova. E' accusato anche di corruzione per l'esercizio della funzione. Nello specifico le accuse riguardano la promessa di posti di lavoro e appartamenti di edilizia residenziali migliori per convogliare i voti degli elettori appartenenti alla comunità di Riesi di Genova, almeno 400 preferenze, verso la lista Cambiamo con Totti presidente e verso l'indagato Stefano Anzalone e alcuni altri candidati della lista non sottoposti a indagini. Ai domiciliari anche il terminalista genovese ed ex presidente del Livorno Calcio Aldo Spinelli. In carcere invece l'ex presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato di IREN. Secondo l'inchiesta l'imprenditore avrebbe dato soldi a Totti per ottenere in cambio favori come la concessione a Spinelli per le aree del terminal rinfuse. Nell'ambito dell'inchiesta è indagato anche Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di S lunga SPA. Moncada è sottoposto al divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale e professionale con l'accusa di corruzione. Stessa misura per Roberto Spinelli, imprenditore del settore logistico e immobiliare, figlio di Aldo Spinelli e per Mauro Vianello, imprenditore operante nell'ambito del porto di Genova, accusato di corruzione nei confronti dell'ex presidente del porto Signorini. Al presidente della regione Liguria si contesta di aver accettato da Aldo Spinelli e Roberto Spinelli, le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro a fronte di più impegni, tra cui trovare una soluzione per la trasformazione della spiaggia di Punta dell'Olmo da libera a privata, velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per 30 anni della concessione del terminal rinfuse controllato al 50% dalla Spinelli, agevolare l'imprenditore nella pratica del tombamento di Calatacom Center del porto di Genova. A Cozzani, quale coordinatore regionale della campagna elettorale per la lista Cambiamo con Totti presidente, Italo Maurizio Testa e Arturo Angelo Testa, quali rappresentanti della comunità riesina di Genova, viene contestato inoltre in concorso con Totti il reatto di corruzione elettorale in occasione delle consultazioni regionali del 2020. A Totti e a Cozzani è stato contestato anche il fatto di aver accettato la promessa del consigliere di amministrazione di S. Lunga di un pagamento occulto per alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto alla terrazza Colombo per la campagna elettorale del Comune di Genova del 2022, a fronte dell'impegno di sbloccare due pratiche a favore della catena di supermercati relative all'apertura di due punti vendita rispettivamente a Sestri Ponente e a Savone.